la verità è sempre la che ci aspetta la verità è un destino che la verità sia un destino vuol dire che qualche qualcosa che ha una si trova ad una destinazione e qualche cosa a cui noi siamo indirizzati perché ci aspetta sempre ci aspetta perché non ci appartiene se ci appartenesse non avrebbe bisogno di aspettarci allora noi non apparteniamo alla verità viviamo nella nostra realtà ma la verità siamo in conflitto con la verità la vorremmo ma lei non c'è data questo conflitto con la verità la verità è però un desiderio costante nel conflitto con essa rimane costantemente vivo il desiderio di possederla ed è proprio per questo che la verità non potendo essere posseduta è qualche cosa che continuiamo a desiderare continuiamo a desiderare continuiamo a ricercare nel nostro destino nella nostra destinazione che è poi praticamente il nostro senso del vivere